Gossipitavip, se lo sussurra, lo svegliamo. Romina Carrisi, figlia di Albano e Romina Power, ha recentemente condiviso su Instagram le sue difficoltà nel perdere i chili accumulati dopo la gravidanza. A nove mesi dalla nascita del piccolo Axel Lupo, nato dalla relazione con Stefano Rastelli, Romina ha confessato di non riuscire ancora a rientrare nei suoi vecchi jeans. Come hanno fatto donne come Diletta Leotta e Chiara Nasti a tornare più magre di prima, si è chiesta pubblicamente. La Carrisi ha anche parlato del baby blues, la depressione post partum, che l'ha portata a mangiare di più dopo il parto, aggravando la situazione. Durante un intervento nel programma La Volta Buona di Caterina Balivo, ha raccontato di aver provato diverse diete senza successo. Ma ora ha ripreso a fare palestra per riappropriarsi del proprio corpo. Nonostante le sfide, ha voluto godersi al massimo i primi mesi di vita del figlio, dedicandogli tutto il suo tempo.